Monopoli che si abbassa tutto dentro la sua area di rigore Sunas, come al solito, vande putte che da lì può andare con il destro cambiato il fronte, non i protagonisti di questo calcio di punizione a favore del Catanzaro due uomini del Monopoli in barriera, alla fine va vande putte verso il centro colpo di testa e palla in rete, immediato pareggio del Catanzaro con Biasci 1-1, 6 minuti sul cronometro, che match, che partita il Veneziani quarto gol in questo campionato per Biasci che raccoglie l'abbraccio dei suoi, punizione di vande putte girata di Biasci, siamo già 1-1 e non sono passati neppure 7 minuti sul cronometro match, tutto da seguire, come nelle premesse, aspettative già superiori grazie grazie